Ciao a tutti ragazzi, YOLO YOLO YOLO, siamo qui insieme ad ARP giusto per presentare una cosa YOLO 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 Abbiamo pre-registrato questo video e oggi ragazzi facciamo un UHC Ci sono per l'appunto 40 posti per chiunque voglia partecipare, il server è per premium Abbiamo trovato questo server dove è possibile fare l'UHC, sono in team da 4, non sappiamo bene come funziona Se volete provarla insieme a noi vi lasciamo appunto l'IP in descrizione Potete aggiungerci, ci troviamo tutti sul TS che sarà in descrizione E organizzeremo le squadre sul momento per l'appunto Spero di riuscire a organizzare abbastanza squadre e vedremo cosa riusciremo a fare E poi si partirà per l'UHC per l'appunto Che come sapete consiste nella guerra a squadre e chi perde vita non la può recuperare Quindi partecipate in tanti, lasciate un bel like per avvisare tutti Invitate i vostri amici, condividete il video su Facebook E al prossimo video, bella Derp sta volando sulla scritta E al prossimo video, bella